clamoroso clamoroso il Monza batte il Napoli 2 a 0 col paccio dei Brianzoli che ha lo stadio U Power Stadium lo stadio Bilanteo il Monza batte 2 a 0 il Napoli ma è clamoroso perché non solo c'è stata una non prestazione del Napoli oggi ma oggi ha fatto il Monza una prestazione pazzesca ragazzi una prestazione da squadra europea una squadra del genere che gioca in questa maniera merita solamente un posto in Europa purtroppo il giro di andata non è stato positivo del Monza e quindi è impossibile che raggiunga la zona Europa però secondo me ha la mentalità europea il Monza ha un buon gioco secondo me con l'atteggiamento giusto con il mercato giusto fatto quest'estate se Berlusconi e Gagliani cacciano ancora soldi e comprano un bomber un bel difensore centrale questo Monza può ambire a qualcosa di più di una metà classifica salvezza tranquilla può ambire a di più perché l'abbiamo visto oggi grande palladino grande Monza vanno fatti i meriti soprattutto al Monza ma oggi il Napoli irriconoscibile sembrava accontentato dello scudetto ormai dicono ormai abbiamo vinto lo scudetto che ce frega andiamo in vacanza vai oggi il Napoli ha giocato in infradito in infradito pronti con l'accappatoio sulla spalla l'infradito il costume pronti tutti in vacanza e arrivederci Serie A ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giapets oggi siamo qui ragazzi in un nuovo video siamo appunto qui nel Giapets commentare il post partita di Monza Napoli che finisce 2-0 per il Monza la decidono ragazze Deni Mota Carvaio il bomber della Serie B dello scorso anno su assist di Pessina e poi ragazzi l'ex di turno che non poteva non mancare il gol me lo sentivo il gol di Petagna il Petagnone timbra il gol dell'ex ed esulta pure tra l'altro un mezzo esulto l'ha fatto vabbè ci sta ragazzi ci sta ci sta è goliardia ma ci sta ragazzi me lo sentivo il gol di Andrea Petagna me lo sentivo me lo sentivo segna e e fa gioire i brianzoli appunto con il suo gol Napoli come ho detto secondo me sembrava poi gli ultimi minuti c'è prova il Napoli ma in generale è stata una non prestazione del Napoli so che il Napoli non è questo ragazzi il Napoli è una squadra completamente diverso quello che avete visto oggi è un Napoli sazio si è visto come un Napoli come se avesse mangiato il pranzo di Natale e Pasqua messi insieme non so sembravano pieni non correvano in campo questo è quello che mi è parso ai miei occhi prima di tutto ciò bentornati in questo video qui è già un punto non è già per scomentare il post partito di Monza Napoli che finisce 2-0 mi raccomando un mi piace per supportare questo video molto importante il vostro sostegno sempre a prescindere da qualsiasi video porto quindi tanti mi piace un commento di me la vostra qua sotto mi raccomando il vostro pensiero leggo tutti i commenti rispondo quindi mi raccomando un commento di me la vostra e ovviamente se siete nuovi mi raccomando non vi costa nulla pigiate il tasto rosso iscriviti al canale e attivate pure la campana che vi viene aggiornata tutta quanta la settimana quindi voi iscrivete attivate la campana e così i video non vi perdete mi raccomando fatelo e per quei tiktok mi raccomando cliccate il link che trovate nella mia descrizione tiktok cliccate e vi porta direttamente nel mio nel mio video appunto youtube per vedere tutto il video dell'analisi allora analizziamo la partita quest'oggi come ho detto il Napoli parte sotto tono meglio il Monza sia in fase offensiva che in fase difensiva tanto possesso palla nel primo tempo parliamo del primo tempo tanto possesso palla diciamo da parte il Napoli che prova fa due passaggi due o tre passaggi ma in generale il Monza si chiude bene riparte in contropiede appunto il gol arriva su un'azione bellissima il gol di Denimota su un contropiede fatto veramente bene si dispone bene alla squadra di Palladino al contrario della difesa nera al contrario della difesa partenopea che stava messa male praticamente questo pallone lanciato di Rovella Rovella che vede Carlos Augusto che la passa che la passa Rovella che la passa lancio lungo per Carlos Augusto che la butta in mezzo per Pessina Pessina col tandem segna il gol di Denimota lasciato da solo dentro del gol dell'1-0 ma l'azione è stata bellissima tutta di prima chapeau per i Brianzoi chapeau per il Monza Napoli si è fatto trovare impreparato sul gol ma in diverse occasioni il Napoli si è fatto trovare impreparato il Monza nel primo tempo poteva stare già 2-0 ma l'ha chiuso solamente 1-0 perché diciamo che ci sono state bisogna dire anche qualche occasione una parte il Napoli mi viene in mente il tiro da fuori di Zambanguissa che fa il miracolo di Gregorio che è un grandissimo portiere merita la chiamata in nazionale secondo me merita veramente tanto di Gregorio tra l'altro è stato pure portiere dell'Under 21 se non erro merita la convocazione secondo me tra i migliori portieri di questo di questo campionato una delle rivelazioni di questo campionato il portiere Brianzolo e bene tutto il blocco difensivo del Monza Izzo su tutti ma anche i due esterni Ciurria e Carlos Augusto due frecce sulla fascia veramente tanta tanta roba centrocampo perfetto hanno probabilmente annullato centrocampo di Lobot Kazambo e Zielinski che secondo me è stato uno dei peggiori inguardabili Zielinski sembrava un ex calciatore veramente io non so come il Napoli faccia giocare perché fa giocare ancora Zielinski di Tolare veramente secondo me è l'anello debole di questa squadra è vero che tanto turnover perché ha giocato Beresischi perché ha giocato Juan Jesus ha giocato comunque Zerbin Elmas che sulla carta non sono titolari però il Napoli onestamente mi aspettava una prestazione un pochettino più decente ci sta che il Monza è una squadra rognosa ha vinto con l'Inter ha vinto con la Roma adesso ha vinto pure con il Napoli è una squadra ammazza big tra virgolette perlomeno in casa questo è dati alla statistica è dati alla mano non è che mostro aumenta io cioè sta proprio dati alla statistica il Napoli inizia a giocare un po' nel secondo tempo in realtà mi aspettava una reazione inizio secondo tempo entra Kvara che un pochettino dà quella cosa in più al Napoli però diciamo che il Napoli sempre nella fase difensiva oggi ha sbagliato qualsiasi cosa al Napoli c'è stato qualche miracolo nel primo tempo di Collini uno su Deni Mota uno su Carlos Augusto all'inizio del secondo tempo e poi arriva e poi arriva al 2-0 al 54esimo andrà a Petagna il Petagnone l'ex Petagnone dopo due anni trascorsi al Napoli dove praticamente è stato un fantasma veramente i napoletani non lo potevano più vedere se n'è andato via e gli fa il gol dell'ex e secondo me dentro lui sta pure a festeggiare perché io se una squadra non mi tratta bene festeggerei se gli segno contro io fossi stato Petagna in generale a prescindere del Napoli fossi stato qualsiasi altra squadra una squadra che te tratta male tra virgolette comunque gol di Petagna chiudiamo il discorso qua gol di Petagna e poi ragazzi il Napoli che a trazione anteriore mette dentro tutti gli attaccanti a disposizione di Raspadori Simeone compagnia bella tutti quanti con Raspadori e Zielischi a fare i due interni di centrocampo senza più un mediano prova il tutto per tutto ma il Monzo come detto si chiude bene addirittura con una difesa a 5 e praticamente Napoli non passa più e finisce la partita sul 2 a 0 fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento dimmi cosa ne pensate sempre comunque farsi il calcio iscrivetevi e da già per tutto bene vamos ciao